Ciao ragazzi, siamo appena entrati all'interno del centro commerciale Porta di Roma, siamo io, Luca e Carlo in questo momento e qui vedete lo store di Apple. Al solito troviamo gli inservienti all'interno che puliscono, probabilmente resteranno tutta la notte in pieno stile Apple e lo store non è grandissimo, però sembra molto carino. Voi cosa ne pensate di questo store? Più grande, comunque hanno già preparato le transenne, dunque vediamo che tutto è molto ben organizzato, hanno iniziato a chiudere le porte barriere al fuoco dunque sicuramente non permetteranno l'ingresso, noi stiamo vedendo la sicurezza che si sta muovendo in questo senso, sicuramente non ci permetteranno di accedere frontalmente in quanto vedete già le transenne, ma siamo tra i primi in fila, ecco, in realtà ci hanno accordato il consenso ci permettono proprio di fare un video veloce, eccolo qui, dunque in anteprima vediamo lo store ancora prima della sua apertura strana, sicuramente la posizione è molto vicina alle scale e diciamo con un corridoio non molto largo però ecco qua ovviamente la fa da padrone il solito cartello che viene esposto prima delle inaugurazioni, appunto che riprende la data del 21 aprile per ora qui, è tutto, sì, abbiamo lasciato Cristian fuori così giusto perse, doveva fare Cristian? stavo intrattenendo un tempo ah ecco, vedete, siamo già attivi, ecco va bene, per ora è tutto, ci sentiamo più tardi un saluto ciao ragazzi ciao